Se da un lato l'arrivo del caldo per alcuni è un buon motivo per andare al mare, per altri invece, ovvero le persone più fragili, diventa un vero e proprio pericolo che li costringe a uscire il meno possibile di casa. A testimoniarlo sono gli stessi numeri delle vittime e delle richieste d'aiuto a causa dell'AFA emerse in questi giorni. C'è una crescita di richieste perché molte persone anziane, oltre ad essere sole, hanno un'età molto avanzata e hanno necessità, soprattutto in questo periodo, di spostarsi, di acquistare alimenti, di andare in farmacia, di fare visite e non è indicato, come Croce Rossa ci indica nelle sue prescrizioni, in certe ore della giornata uscire. Noi da questo punto di vista ci stiamo attrezzando anche con i nostri volontari che sono anziani dati in prestito al volontariato e cerchiamo di consigliarli al meglio, a volte magari fate un servizio in meno, però riguardate la salute. Da queste necessità, in risposta alle richieste degli anziani, Auser si è attivate in tutta la provincia per apprestare loro soccorso e aiuto, soprattutto per quelle faccende quotidiane che li obbligherebbero ad uscire di casa. Praticamente abbiamo istituito questo trasporto sociale che sta veramente andando alla grande, anche oggi abbiamo fuori due mezzi che sono H8 ore impegnati. Lo facciamo perché abbiamo visto che molte persone non hanno chi li può trasportare, non hanno chi può andare ad esempio in farmacia a prendergli un semplice medicinale, non hanno chi può portargli a far spesa. Stiamo sopperando con tutti i servizi che negli anni abbiamo costruito, da ausilio spesa con Coppa Alleanza 3.0, 25 anni, Causer consegna le spese alle famiglie che hanno difficoltà, soprattutto nel periodo estivo, c'è stata un'impennata enorme. Trasporto sociale, visite mediche, col problema adesso delle liste d'attesa, è impensabile far perdere una visita a un anziano che ha necessità e quindi noi in tutti i modi possibili sopperiamo, a volte anche con mezzi propri dei nostri volontari, alle richieste che ci arrivano. Abbiamo circa dalle 10 alle 15 richieste settimanali e in un mese tra tutti i servizi tocchiamo più di 100 persone. Per richiedere il servizio offerto da Hauser sono vari riferimenti messi a disposizione, dal contatto diretto ai canali social o numeri telefonici da contattare. O direttamente i presidenti dei circoli Hauser di Pesero, ma ovviamente il servizio è steso a tutta la provincia dove abbiamo i nostri circoli, 50 circoli in tutto il territorio, o direttamente sui social per chi è un po' digitalizzato può contattarci con Messenger, o al mio numero che ormai basta digitare su Google, il 3394520969 e poi io faccio da amministratore di tutti quelli che sono le agende dei nostri volontari.